Rico fammi vedere. Oh sono forti questi comandi. Che sono questi? Fammi vedere. Lo racconto io. Ridammelo. Ehi ragazzi, questo non è un giocattolo, è vero. Ricky, si è lui. Prendilo prima che lo viva. Io sto a guardia degli altri. Un po' di cera sarà come nuova. Chi sta dove è andata? Lo trovo io. Forte, con questi si muove. E questi... A cera non è piaccia. L'ultimo grido è il fatto di Game Boy. Il pulsante grande che fa? Oh! Ma che... Mamma mia! Hai il pulsante che accende e spegni? Tramelo ancora. Auto! Chi ha rovinato ogni auto? Sei stato tu, grosso idiota. Ricky! Dov'è il pelino? Oh, sta zitto. Brutami. Come? Perché mi prendi a schiaffi? E tu perché ti comporti come uno stronzo? La vendetta è così dolce. Ho girato intorno al lago per chiudì un'ora. Tu ti avrai finito. È come pensavo. No, io non lo so. Vuoi che non li fatti qui? No. Lascio pure che soffra. Quindi sto facendo. Buon do share.